E' dal 1858 che Andria, ogni anno, onora la sua principale patrona, la Madonna dei Miracoli, con una suggestiva processione notturna. Nella notte che precede l'ultimo sabato del mese di agosto, il clero e il popolo andriese accompagna la statua della Vergine Madre dalla Cattedrale al Santuario Mariano Omonimo, situato a circa due chilometri fuori dell'abitato. Tale processione costituisce il primo atto che prepara la festa patronale in onore di San Riccardo e la Madonna dei Miracoli, festa che si svolgerà la terza domenica di settembre. Dal 1858 al 1875 per la processione notturna fu utilizzato un quadro della Madonna dipinto da un ignoto artigiano andriese. In seguito fu preparata una statua d'argento della Madonna con il bambino seduta in trono. L'opera fu eseguita a Napoli dall'artista Gennaro Pane e fu pagata con le offerte del popolo andriese per una somma di 30.000 lire di allora. All'epoca la città di Andria contava circa 30.000 abitanti. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 1983 i gnoti ladri, penetrati furtivamente in cattedrale, trafugarono le due statue d'argento del Santissimo Salvatore e della Madonna dei Miracoli, furto che gettò tutto il popolo andriese nella più grande costernazione. Qualcuno pensò che tale atto sacrilego interrompesse la piattradizione della processione notturna, ma il compianto Monsignor Lanave con il concorso del Comitato delle Feste Patronali e di tutti i fedeli sottoscrisse il 31 luglio 1984 un contratto per il rifacimento della statua d'argento, proprio quella che si venera oggi. Una scia di luci anche questa notte ha accompagnato la Madonna dei Miracoli al suo sontuoso santuario, raccogliendo intorno a sé non solo le voci, le preghiere e i canti dei fedeli, ma anche i cuori di tutti i devoti che alla Vergine Madre affidano i loro desideri e le segrete speranze di speciali grazie. Ella, seduta in trono con il bimbo sulle ginocchia, percorre le vie della città, assicurando con il suo passaggio quella protezione materna che sempre ha infuso su tutti i suoi figli. Il grande afflusso di gente alla processione di questa notte è segno di una filiale e secolare devozione del popolo andriese alla sua Madonna chiamata dei Miracoli, a causa dei moltissimi miracoli da lei compiuti fin dal rinvenimento dell'affresco in quella grotta che viene chiamata Laura di Santa Margherita. Da quel lontano 10 marzo del 1576, la Madonna non ha mai cessato di beneficare chi a lei ricorre con fiduciosa preghiera. Essa è rappresentata secondo il modulo tipico della iconografia bizantina denominato la Chiriotissa, cioè trono del Signore, in quanto sulle sue ginocchia, come su un trono, il bambino regna, accoglie, ma soprattutto ascolta. L'affresco risalente all'VIII-IX secolo è opera di monaci bizantini fuggiti alla persecuzione iconoclasta dell'imperatore Leone III Isaurico e dei suoi successori e rifugiatisi negli anfratti e nelle grotte che il suolo carsico della Puglia offriva loro. E quella grotta oggi è come il cuore della magnifica opera architettonica fatta costruire dai padri Benedettini e realizzata dal celebre architetto Fanzago, già famoso in Napoli.